Le tempistiche dell'inchiesta Totti, la preoccupa? Beh, insomma, direi che qualche sospetto lo destra, comunque adesso le carte naturalmente non le conosco, ho piena fiducia nel governatore Totti, sono certo che dimostrerà la sua innocenza e sono certo appunto che potrà ristabilire quella che è la verità. Adesso questa è l'accusa, vediamo la difesa. La tempistica del suo rinvio a giudizio invece, del suo rinvio a giudizio, male non fare, paura non avere, quindi sono assolutamente tranquilla.